Malteser 5, Shuffle Team 0, siamo ormai nel secondo tempo, questa posizione è interessante per lo Shuffle Team, ma là dentro il portiere, insomma il portiere proprio non è Rubino che rifugia in calcio d'angolo, Bortone mette dentro l'anticipo di guida, può ripartire l'azione, la palla però esce nettamente fuori, ma l'arbitro fa un errore enorme, palla dentro ed è rete di guida, che deve ringraziare l'arbitro per un errore clamoroso, un errore clamoroso dell'arbitro che peserà su questa gara, era fuori di qualche metro, rivedremo anche nel replay, quando monteremo il video faremo anche un replay di questo pallo laterale netto, c'era davvero un metro, errore che inciderà tantissimo sull'estero nella gara, fila tutta, ha ragione ha ragione Matteo che fa anche la sua disamina in camera, è ancora il rigore che non c'era contro la cia e non c'era la ripresa della camera, un arbitaggio scandaloso che caratterizza questo risultato, vediamo la reazione rabbiosa dello Shuffle Team, ancora guida scatenato sulla sinistra, Casalini, profondo, ottimo la palla in mezzo di Quaratino, ancora Casalini, sinistro, rete, e qui c'era un fuorigioco che non è stato ravvisato dalla terna arbitrale, anche questa era da annullare, l'abbraccio col mister, e su questa bella inquadratura chiudiamo qui il collegamento. Quaratino e Fenderico, rispettivamente i due capitani a quest'oggi delle due squadre, visto che sono alternati un po' la fascia, 13-0 contro lo Shuffle Team, match tranquillissimo, ce lo racconta il capitano di oggi, Fenderico. Vabbè la partita si è messa bene, diciamo, se in dei primi minuti, abbiamo anche sotto il piano della costruzione del gioco ci siamo mossi bene, insomma va bene, dobbiamo continuare così su questa ondazza, speriamo. E anche nel calendario c'era 3-4 partite difficili, infatti ultimamente, adesso sono tutte le partite facili, dopo che avete fatto un tour de force, adesso viamo al super scontro contro i Chitamurti, sono tutte facili, ovviamente sono tutte vittorie. Sentite, un parere sui Kennedy e poi su Casalini. No, non potremmo giocare qua, perché veramente ci apriamo come spazi qua, e poi è un giocatore fenomenale, abbiamo scoperto noi, abbiamo portato noi al torneo, potrebbe essere un bel acquisto. Sì, è già nostro, i Galacticos, non so se si sa, ma secondo me la vostra cantera. Una vostra proprio tutti, in blocco li prenderete. Va bene, grazie ragazzi, complimenti.